Assessore, sono arrivati i commissari per valutare il territorio per la comunità europea dello sport 2019. Cosa vi aspettate da questa visita? Intanto far conoscere la nostra meravigliosa terra. L'idea è nata da Regione, ma ho trovato ottime gambe e anche un ottimo gioco di squadra sul territorio perché arrivare a 11 sindaci del nostro entroterra che lavorano insieme per promuovere le nostre bellezze sicuramente è un bel traguardo per un territorio che difficilmente nel passato si apriva all'esterno. E devo dire che avremo modo di ripercorrere tutte le tappe più belle, ma che potranno comunque essere ulteriormente ampliate in futuro. Oggi ci presentiamo come candidati per essere la comunità del benessere dello sport dell'anno 2019. Anche come Assessore alla Sanità promuovere il territorio, la sana alimentazione, l'attività fisica sicuramente è una componente importante dello stato di salute delle persone. E' per questo che devo dire abbiamo subito colto questa opportunità e ringrazio tutti i sindaci perché si sono spesi in prima persona e hanno contribuito al successo dell'iniziativa e speriamo che veniamo in qualche modo accolti e accettati come community nel 2019. Si parte da ospedaletti ma si va nell'entroterra, quindi è anche un modo per valorizzare sempre di più il territorio in quella che è una delle sue parti più belle, il mare e l'entroterra. Valle Bona, che è il capofila, ha individuato un titolo a questo viaggio molto bello, l'arco del benessere. Mare, monti, entroterra, quindi sono le nostre bellezze naturali che devono essere arricchite dalla cultura, dalla passione per lo sport praticato all'aria aperta e quindi valorizzare anche i nostri limiti perché è un territorio stretto, montuoso, a ridosso del mare ma proprio per questo è unico al mondo.